Secondo uno dei molti insegnamenti del fondatore di Alleanza Cattolica Giovanni Cantoni, è sempre bene quando si affronta un argomento partire abimis fundamentis, quindi in quest'ottica parlare della degnità della persona significa prima di tutto recuperare l'etimologia della parola persona, che saremmo portati a dare per scontata, mentre è termine che in realtà assume una sua rilevanza semantica e soprattutto filosofica soltanto con lo sviluppo del pensiero cristiano. Deriva dal latino, a sua volta da una radice etrusca, e sta ad indicare la maschera che nel teatro latino pre-cristiano gli attori utilizzavano per poter caratterizzare i personaggi. Questo già ci dà il senso di come persona è il termine che significa l'identità specifica di un individuo, che perde la sua indistinzione di individuo per assumere quella propria specifica, individuante quel singolo individuo, nel momento in cui gli viene appunto riconosciuta la qualità di persona. Questa etimologia dice relazione poi a quello che è il portato che possiamo trarne dalle sacre scritture, assegnatamente dal primo libro della Bibbia, il libro della Genesi, là dove c'è la descrizione della creazione, e per l'appunto la precisazione che l'uomo, maschio e femmina, che Dio crea, è proprio quella specifica e singola creatura prediletta da Dio, con la quale egli ritiene di dover assumere un rapporto personale, proprio perché, diversamente che da tutte quante le altre creature, Dio, pur compiacendosi che tutto ciò che aveva fatto fino a quel momento era buono, sente che manca qualcosa. Tant'è vero che dopo la creazione dell'uomo, la litote, e vide che era cosa buona, diventa, nel passo della Genesi, e vide che era cosa molto buona. Il qualcosa che manca è il qualcuno con il quale egli possa avere una relazione personale, in quanto, come si legge appunto nel Genesi, quello che connota l'essere umano come persona è il fatto che la sua creazione è fatta e svolta a immagine e somiglianza del creatore. Dio fa l'uomo a sua immagine e somiglianza, ed è esattamente in ciò che risiede la dignità assolutamente inconmensurabile della persona umana. Ciò che rende la persona umana un essere creaturale, ma in questo senso il più degno, il più rilevante, il più prominente fra tutte le creature. Nella misura in cui il Dio cristiano è un Dio personale, un Dio non indistinto, non una mera entità, ma egli stesso una persona, si sviluppa nell'ambito soprattutto dell'Antico Testamento il rapporto, variamente caratterizzantesi ma sempre personale, tra il creatore, fra Dio creatore, e l'uomo creatura. In particolare, dopo la caduta di Adamo ed Eva e la loro cacciata dal paradiso terrestre, Dio si pone nei confronti dell'umanità con modalità di recupero di quella originaria relazionalità piena e non afflitta dal peccato. Rapporto personale che svolge con il popolo ebraico a partire dal patto che viene consacrato con Abramo e che per l'appunto assegna al popolo ebraico la funzione di popolo di Dio, cioè di quel popolo che dovrà realizzare nella storia il rapporto personale che era già iniziato nell'Eden, di cui ci parla il Genesi, con Adamo e con Eva. Questo rapporto personale si fa quindi storico, ma è anche e soprattutto un rapporto sociale. La persona umana, che è fatta d'immagine e somiglianza di Dio, non è infatti una persona singola, è una persona plurale. Dio stesso, non appena ha creato l'uomo, si vede chiedere ad Adamo una compagna, perché Adamo si sente in una qualche misura insufficientemente capace di realizzare se stesso in assenza di compagnia, ovvero in assenza di naturale socialità, per la quale Dio, dopo averlo secondo la descrizione del Genesi addormentato, trae una costola dalla sua stessa carne e gli fa la compagna, gli crea la compagna che appunto è Eva. Quindi il rapporto è personale, ma è un rapporto naturalmente sociale. E a ben guardare anche questo attributo ci conferma ancora una volta il senso della somiglianza ed immagine a Dio dell'uomo. Immagine e somiglianza a Dio, che come sappiamo, secondo la teologia cristiana, è uno e trino, egli stesso una persona, ma in realtà tre persone, Dio padre, Dio figlio, Dio spirito santo. Quindi quella socialità che è propria del Dio creatore, secondo il mistero trinitario, viene naturalmente riflessa nella creazione dell'uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio nella naturale socialità dell'uomo. L'uomo dunque non vive da solo, non può vivere da solo. L'uomo vive naturalmente insieme agli altri. Questa proiezione sociale si trasferisce ovviamente anche sulla condizione storica dell'uomo, il quale, come detto, dopo la caduta, dopo il peccato di orgoglio che gli fa accettare e accogliere l'invito diabolico di mangiare il frutto dell'albero proibito, perché così facendo sarebbero stati, Adam ed Eva, come Dio, eritis sicut Dei, peccato di orgoglio che ne determina la caduta e soprattutto la perdita della condizione di perfezione naturale che è propria della creazione dell'Eden, l'uomo vive una storia travagliata, storia post peccatum, storia che, secondo l'antica tradizione teologica cristiana, recentemente magistralmente ripresa dal Magistero Pontificio di San Giovanni Paolo II in Reconciliazio et Penitensia, si ispira alla legge della Ascesi e della Discesa. Il Santo Pontificio, in questo testo, sottolinea come il dinamismo proprio dell'uomo storico è un dinamismo che è da un lato assolutamente personale, perché è sempre e soltanto quella singola persona che peccando continua a perpetuare la cacciata, la discesa dalla condizione di perfezione naturale che era propria di prima del peccato di Adamo e di Eva, ma contemporaneamente è sempre quella singola persona che può, attraverso la grazia divina, messa a sua disposizione dalla morte e risurrezione di Gesù, vero Dio e vero uomo, recuperare questa sua condizione di peccato e quindi riscattare il peccato e finalmente ascendere verso la Gerusalemme celeste. Dunque, questa legge della discesa e dell'ascesi è una legge che ammette una declinazione sociale nella misura in cui l'uomo è un animale naturalmente sociale, diceva già Aristotele Antropos, Zoon, Politicon e Sti. Questa condizione fa sì che inevitabilmente attraverso la discesa e l'ascesi dei singoli uomini, anche le società, da loro composte, finiscono per andare soggetti a questo dinamismo di salire e scendere, a questo dinamismo di uscire dalla condizione di peccato, ovvero di continuare a rimanervi, oppure, in una qualche misura, addirittura aggravarla, condizione che è proprio appunto delle società storiche. Ciò che faceva dire a Cantoni, che prima citavo, che l'inferno storico delle nazioni si compie appunto sulla terra, perché evidentemente la condizione di peccato storico non può essere definitivamente riscattata, se non alla parousia, al ritorno di nostro Signore sulla terra, quando questo dinamismo storico cesserà, mentre invece l'anima dell'uomo dopo la morte, a secondo del suo comportamento in vita, potrà essere definitivamente riscattata e quindi ritornare a Dio, oppure tragicamente essere condannata alle pene dell'inferno, laddove e pianto estridore di denti, per non avere voluto accettare i doni dello Spirito Santo. Questo exitus adeo, reditus adeum, è quindi un dinamismo che si può accompagnare anche alla lettura storica delle nazioni, delle società, proprio perché si accompagna naturalmente alla naturale socialità dell'uomo. Se dunque questi sono gli estremi propri della persona umana e il fondamento della sua dignità, capiamo anche quali sono le conseguenze sociali della dignità della persona e il perché nella storia l'uomo ha, in quanto persona fatta a immagine e somiglianza di Dio, dei diritti suoi propri, assolutamente non conculcabili, che devono essergli riconosciuti, pena la lesione, pena il degrado, pena la perdita della dignità che lo connota intimamente, che lo connota potremmo dire, consustanzialmente. Andando più nel dettaglio, possiamo dire sulla base di questi principi, che sono propri della dottrina sociale relativamente alla persona umana, che le conseguenze sociali, la dimensione sociale che la dignità della persona comporta, ci portano ad analizzare più propriamente i criteri di giudizio nell'analisi della società sominum. Ci rendiamo allora conto di come la naturalità della socialità umana implica la naturalità delle formazioni sociali in cui questa socialità si esplica, a partire da quella che si definisce proprio per queste ragioni la prima cellula della società, cioè la famiglia, e poi evidentemente in tutte quante quelle organizzazioni sociali in cui naturalmente l'uomo manifesta la sua naturale socialità, sia attraverso la comunità di destino, sia attraverso le formazioni professionali in cui egli esplica la sua attitudine anche lavorativa, cioè in tutte quelle formazioni sociali che con termine ormai abbastanza desueto, ma che va recuperato perché è termine assolutamente fondamentale della dottrina sociale della Chiesa, chiamiamo corpi intermedi, cioè in tutte quante quelle formazioni che si pongono fra l'uomo come singolo, come singola persona e la organizzazione giuridica della società che è lo Stato. Anche il termine Stato deve essere recuperato nel suo etimo originario, che non lo indica, non lo connota per essere una realtà terza rispetto alla società e rispetto agli uomini che compongono quest'ultima, ma per essere piuttosto invece lo status dell'organizzazione politica della società stessa. In questa prospettiva i corpi intermedi, la loro formazione, la loro tutela, la loro salvaguardia e il loro sviluppo, sono un aspetto imprescindibile di qualsiasi azione politica che voglia correttamente ispirarsi alla dottrina sociale della Chiesa. Di questa declinazione abbiamo numerosi esempi magisteriali, anche relativamente agli ultimi pontificati. Primo fra tutti gli ultimi pontifici, certamente San Giovanni Paolo II, che ha avuto il merito, anche grazie alla durata del suo pontificato, di poter applicarsi in subietta materia in più documenti. Al proposito, merita certamente di essere citata tra tutte la centesimus annus, che particolarmente per quanto riguarda la dottrina dei corpi intermedi e del corretto rapporto fra la società e lo Stato, pone degli accenti assolutamente irrinunciabili quanto ai corretti criteri di giudizio e conseguentemente anche alle buone direttive di azione, che bisogna avere in politica, ispirando appunto la propria azione alla dottrina sociale della Chiesa. Altro documento di San Giovanni Paolo II, che merita di essere sul punto citato, è poi la sollicitudo rei socialis, così come venendo ai pontificati più recenti, la caritas in veritate di Benedetto XVI, che pone nuovamente l'accento sui fondamenti del corretto rapporto fra l'uomo-persona singola, i corpi intermedi, le formazioni sociali e lo Stato. E da ultimo, venendo al Magisterio del Regnante Pontifice Francesco, il riferimento deve essere fatto sicuramente alla Evangelii Gaudium, in particolare ai numeri dal 182 al 185, in cui il Regnante Pontifice, nel porre il fondamento dell'azione evangelizzatrice, espressamente richiama la dignità irrinunciabile della persona umana, come suo fondamento appunto. Nonché alla Laudatosi, l'enciclica sull'ecologia, sull'ecologia umana, il cui capitolo terzo è interamente e integralmente dedicato a quelli che sono i danni del relativismo filosofico e pratico, rispetto alle ricadute sociali che lo stesso può avere, proprio rispetto alla negazione dei diritti del singolo uomo. Altro elemento importantissimo che merita di essere recuperato in tale prospettiva, nella prospettiva del fondamento divino della dignità della persona umana, è l'aspetto che possiamo trarre ulteriormente dal fatto che l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, e cioè la libertà. Sant'Agostino molto opportunamente pone una distinzione che è rimasta classica tra la libertas major e la libertas minor, la prima libertà assoluta propria soltanto di Dio, peraltro libertà assoluta ma non volontaristica, perché Dio non può esercitare questa libertà contraddicendo se stesso, cioè al di furio o addirittura contro l'ordorerum del creato, al di furio contro la razionalità che lo connota e che ha fatto sì che il mondo fosse creato come è stato creato, come non poteva non essere creato se non appunto conformamente a tale disegno razionale, libertas major che è quindi propria soltanto del Dio creatore, ma il cui riflesso viene attraverso dall'uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio, appunto trasferito anche all'uomo stesso, che è dotato del libero arbitrio, la libertas minor agostiniana, che esprime al massimo grado, al massimo livello la dignità della persona umana, nella misura in cui l'uomo è chiamato a poter volontariamente, liberamente aderire al disegno di Dio, libertà che per altro aspetto San Paolo chiamerà misterium iniquitatis, quella condizione umana cioè per la quale l'uomo pur conoscendo il bene può scegliere il male, decidere a fronte della conoscenza del bene di seguire l'istinto, di seguire l'inclinazione cattiva che gli proviene dalle proprie membra e per questo motivo non accettare la grazia di Dio, non accettare il disegno di Dio che pure egli conosce o quantomeno è in grado di conoscere. Il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 1732 dice al riguardo finché non si è definitivamente fissata nel suo bene ultimo che è Dio, la libertà implica la possibilità di scegliere tra il bene e il male e conseguentemente quella di avanzare nel cammino di perfezione oppure di venire meno e di peccare e contraddistingue quegli atti propriamente umani, diventa sorgente di lode o di biasimo di merito o di demerito. A ben vedere questa niente altro che l'altra faccia della medaglia della legge dell'ascesi o della discesa che per l'appunto causa quel dinamismo di cui prima dicevo. Quindi la libertà è un aspetto fondamentale della declinazione sociale e politica che si trae dalla dignità della persona umana, libertà che oggi è sempre più compromessa non tanto e non soltanto nei termini della persecuzione materiale, della sua privazione o limitazione materiale, quanto piuttosto nella sottrazione di quelli che sono gli spazi vitali nei quali essa può e deve essere esercitata. Quindi con riferimento alla condizione in cui la libertà dell'uomo può e deve essere esplicata nelle attuali condizioni del mondo, cosiddetto postmoderno, la dignità della persona comporta appunto la necessità che la stessa venga tutelata, tutela dei diritti propri della dignità umana e di quello che in altri termini possiamo qualificare come diritto naturale, come il complesso del riconoscimento giuridico che deve essere dato all'uomo dei suoi diritti a prescindere dal fatto che esista una norma positiva che effettivamente li riconosca. La dicotomia fra l'ex naturalis e ius naturale è in questo senso proprio il fatto che esistono dei diritti propri dell'uomo che derivano consustanzialmente dalla sua dignità, che sono direttamente di legge naturale, laddove invece la effettiva e concreta posizione di questi diritti, quello che chiamiamo appunto ius, in quanto poi ius positum diritto positivo dovrebbe essere correttamente soltanto una coniugazione del ius naturale, a sua volta frutto appunto a specchio della lex naturalis. Sappiamo bene come invece oggi tutto ciò sia fortemente compromesso dalla negazione della fonte naturale del diritto, la pretesa che lo stesso, che il diritto, sia se non addirittura espressione dei desideri, quantomeno di volta in volta determinato secondo quelle che sono le cangianti maggioranze del legislatore moderno e postmoderno, secondo quella sottile forma di totalitarismo che Giovanni Paolo II nella Centesimus Annus appunto individuava nella negazione della derivazione ultimamente divina dei diritti dell'uomo. Diritti dell'uomo che sono tali soltanto se si riconosce che l'uomo è persona divinamente fondata in quanto creatura di Dio e in questo senso in quanto appunto fatto a sua immagine e somiglianza. Dignità dunque che prescinde dal riconoscimento positivo che la norma positiva eventualmente gli poi gli deve conferire. Tra questi diritti il primo fondamentale, altro non fosse che perché senza di quello evidentemente non ci sarebbe neanche il soggetto del diritto, è il diritto alla vita, in tutte quante le sue forme. Diritto alla vita dal concepimento alla morte. E sappiamo quanto questo diritto oggi sia incrinato, compromesso, leso dagli attacchi compiuti attraverso la legislazione abortista e più in generale della mentalità contraccettiva che viene imposta anche in termini culturali fino all'eutanasia, cioè alla pretesa che siano altri a decidere il momento della morte. Forme di attentato a questo diritto che addirittura lo compromettono radicitus. Conclusivamente possiamo quindi dire che questo dinamismo storico, questa articolazione di naturale socialità dell'uomo finisce per rispondere a due principi fondamentali che sono i principi intorno ai quali si articola tutta la dottrina sociale della Chiesa, per come si realizza, si compie e si va a declinare nelle sue varie forme storiche. Il principio di sussidiarietà e il principio di solidarietà. Il primo, il principio di sussidiarietà, è quello che riconoscendo appunto la somma dignità alla persona umana, ritiene che questa debba essere aiutata dalle formazioni sociali di concrezione maggiore fino a quella più ampia che è lo Stato. Perché la persona umana possa realizzarsi, possa perseguire la sua felicità in terra. Ma questo intervento suppletivo, questo intervento di aiuto da parte delle formazioni sociali più ampie deve avvenire nel rispetto delle prerogative della persona e quindi deve trarre la sua legittimazione esclusivamente dal fatto che in tali ipotesi il singolo o i singoli non riescono a realizzarsi compiutamente da se soli, senza che quindi vi sia la possibilità di configurare alcun diritto statale che possa intendersi strutturalmente sovraordinato ai diritti delle singole formazioni sociali. D'altra parte però l'uomo è chiamato proprio perché fatto ad immagine e somiglianza del dio uno e trino a vivere la sua socialità con spirito di comunione e quindi i suoi diritti, la sua radicata dignità, non può che esplicarsi se non in una prospettiva di comunione di sé all'altro che è per l'appunto quello che poi prende il nome di principio di solidarietà. Principio di solidarietà che non è solamente declinabile come si potrebbe facilmente intendere in termini economici ma che va declinato prima ancora in termini personali secondo quell'istinto naturale che porta Adamo a chiedere la compagna al dio creatore perché la prima forma di comunione è esattamente quella comunione carnale che si realizza fra l'uomo e la donna che determina attraverso la congiunzione, la loro congiunzione, la vita, la trasmissione della specie, attraverso il ritorno per il tramite di questa coniunzio carnis, quella unità originaria per cui Eva viene creata dalla costola di Adamo addormentato. Anche su questo è facile intendere quanto non soltanto il principio di sussidiarietà sia fortemente conculcato dalla legislazione attuale ma anche lo stesso principio di solidarietà e non soltanto dall'individualismo sfrenato del turbocapitalismo o dal liberismo economico privo di freni morali ma anche dalla negazione che addirittura si vorrebbe oggi portare da parte dell'ideologia del gender fino alla radice stessa dell'istituto familiare fino alla famiglia luogo in cui tale comunione fondamentalmente si va a realizzare socialmente luogo che per questo motivo deve essere il primo in questo contesto storico attuale luogo di tutela e di riproposizione dei principi che in materia la dottrina sociale della chiesa ci va ad indicare